Circa 600 prenotazioni per l'open day organizzato per oggi 22 gennaio nel lab vaccinale di Porta Nuova Pescara che vede in prima linea il personale medico infermieristico e volontari nell'accoglienza e nella vaccinazione di bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Ho deciso di vaccinare entrambi i suoi bambini? Sì, ho deciso di vaccinarli entrambi. Quello che succede in giro sicuramente la scelta è quella di vaccinarli. In mattinata la visita dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri che è stata accompagnata dal direttore generale della ASLE Vincenzo Ciamponi e dal responsabile della campagna vaccinale Rossano di Luzio. Un contesto a misura proprio dell'età pediatrica, si vive un clima distensivo, quasi un clima gioioso. I bambini neanche si rendono conto che devono ricevere una puntura, un'iniezione, un vaccino. Quindi c'è un sorriso, c'è un'aria distensiva e questo lo si deve all'ottima organizzazione che la ALSA ha messo in campo presso questa struttura. C'è una grande adesione, una grande richiesta ma soprattutto anche i genitori sono tranquilli. Dottor Ciamponi, un open day che fa seguito a un open night per gli over 50, alle vaccinazioni delle donne in stato interessante. Insomma, come la ASLE di Pescara sta rispondendo alle diverse esigenze del territorio? Stiamo rispondendo bene, open night, open day, aperture serali, aperture giornalieri. L'ASLE, come ormai da due anni a questa parte, è caratterizzata da fare queste giornate dedicate, però vorrei ricordare che l'ASLE sta funzionando in tutte le sue particolarità, in tutte le sue specialità. Quindi noi stiamo andando avanti, quindi non esiste soltanto la vaccinazione, non esiste soltanto i tamponi, ma c'è l'ospedale che sta andando avanti. Non ci siamo fermati mai, le attività chirurgiche, le attività ordinarie stanno andando avanti. Gli operatori sanitari, tecnici, amministrativi stanno dando un contributo importantissimo. Ricordo che durante le feste parecchi colleghi hanno rinunciato alle ferie pur di perseguire queste attività. Quindi una collaborazione importante e devo essere contento di tutto questo. Dottor Di Luzio, in termini numerici, oggi 600 prenotazioni per le vaccinazioni ai bambini, ma la campagna vaccinale nell'ultima settimana, negli ultimi giorni, come sta procedendo? Siete soddisfatti delle adesioni ricevute? Sta procedendo molto bene, mediamente facciamo circa 4.500 vaccini al giorno, abbiamo avuto anche punte di oltre 5.000 e come ha detto lei oggi ci sono 600 prenotazioni, nell'open night di giovedì abbiamo fatto altri 400 vaccini serali e con le donne in gravidanza abbiamo raggiunto le 60 donne in gravidanza. Un importante lavoro sinergico, ma anche la collaborazione delle famiglie è stata determinante, ha detto Luisa Morretti, coordinatrice infermieristica degli hub vaccinali della ASL. Per fortuna abbiamo degli infermieri che sono abilissimi a giostrarsi tra grandi e piccini, per cui riescono a lavorare bene sia con l'uno che con gli altri. Con i bambini la vivono anche loro in maniera delicata, per cui riescono a trasferire questo messaggio di serenità e riusciamo a vaccinare.